Nella casa del grande fratello Vip, c'è un'amicizia che sembra essere giunta a capolinea. Stiamo parlando di quella tra Mariana Rodriguez e Gabriele Rossi. L'attore è rimasto molto deluso dall'atteggiamento della modella venezuelana. Confidandosi con Alessia Macari, ha sottolineato di aver visto un'incoerenza tra il fatto che Mariana Rodriguez lo abbia nominato e il comportamento che lei ha avuto nei suoi confronti nel corso dell'ultima settimana. Lei voleva chiarire con me cose che poi non si sono chiarite. Per il rapporto che ho avuto io fino al trentasettesimo giorno con lei, ora tutto quello che esce dalla bocca di Mariana vale meno di una cicca spenta nel pusacenere. Perché una che mi viene a dire chiariamo, mi abbraccia, mi dice se vieni a Milano ci vediamo, io le ho pure detto se vieni a Roma, vieni a dormire a casa mia, se hai bisogno considera la casa tua e poi mi ha nominato, anche se non mi importa niente delle nomination. Perché sai come sono le nomination. Inoltre, non ha apprezzato una presunta scortesia della Rodriguez avvenuta mentre erano a tavola. A tavola, poi, mi ha tirato un pezzo di pane e quando le ho chiesto Mariana per favore mi passi il pane. Lei ha preso il pane e me l'ha tirato. È un gesto che non si fa neanche a una bestie. Io ho scelto di ignorare questa cosa, perché non sono sua madre per insegnarle che il pane non si tira a tavola. E poi parlando con Elenuire ho deciso di trasformare ogni cosa brutta che mi arriva in un grazie. E così sono tre giorni che qua dentro sto bene. Almeno per il momento, dunque, sembra finita l'amicizia tra Mariana Rodriguez e Gabriele Rossi, che nelle scorse settimane sembrava potersi trasformare in un flirt. Chi se ne frega.